let's go butch sono sempre io power il vostro guardiano preferito e sono qui per spiegarvi il mio metodo di come farmo io 3d ori come li utilizzo perché ne droppo comunque più o meno così tanti l'altra volta avete visto che più o meno con 70 3d ori ne ho droppati all'incirca 19 voglio spiegarvi voglio condividere con voi il metodo che utilizzo io con quello mio personale poi non so se funzionerà per voi o se è quello giusto se sbaglio qualcosa in verità ma per ora a me sembra funzionare quindi vi spiego come funziona come vedete sto facendo assalti ogni tanto faccio pulire della rovina o le missioni della storia dove c'è un boss ma cosa faccio io mi prendo un intero aggiornato 2 o 3 in cui faccio magari tutti assalti a bomba cioè cerco di andare a trovare ultra uno dopo l'altro che vuol dire questo vuol dire che gioco per cercare di fare gli ultra che si trovano nella mappa nell'assalto e così via gioco assalti o al 36 o al 40 non importa di solito rifaccio al 36 per velocizzare il processo cioè l'assalto dura ovviamente di meno è più facile uccidere il boss e ci si sbriga ma cosa faccio con i 3d ori come vedete qui nel video io arrivo prima di ogni boss e mi tiro un 3d ori prima del boss una volta tirato il 3d ori prima del boss lo uccido e vedo se droppa più o meno questa cosa funziona ogni 4-5 boss prendo un 3d ori quindi alla sesta volta che lo uso ne riesco a prendere uno perché più o meno il tempo che aspetto dopo un utilizzo di un 3d ori cioè a riutilizzare un altro 3d ori dopo che ne ho usato uno e non ho droppato niente è all'incirca superiore ai 5 minuti io spero che questa cosa vi aiuti lo so non è tanto non è una cosa consiglio così assurdo ma questo è il mio metodo che utilizzo io provate a farlo guardate come lo faccio e spero che anche voi droppiate tante esotiche come mi sta capitando a me in questo periodo io vi saluto bitches sono power il vostro guardiano sculato vai esotico nella primaria guarda quello vedi in basso a sinistra prendo io mi stai facendo via guarda quello che vuoi guarda quello che pare guarda quello che vuoi guarda quello che vuoi ielta quello che vuoi